Franca Valeri nel suo personaggio radiofonico e teatrale della signorina Snob siede dalla manicure. Ma la manicure è la signorina Cesira, altro personaggio di Franca Valeri. Convegno delle due che diventerà convegno dei quattro quando vedremo entrare in scena anche Bonucci e Caprioli. Il mignolo si è un po' ferma. Ma non sa che è il mignolo che ha la presa sugli uomini? Senti ti prego non parlarmi di uomini che mi si fa sull'anima vite doppia. Attraverso un periodo talmente anti-adamico. Ah caro lei sa. Io invece sono piuttosto per il sesso forte. Sa soprattutto la spalla larga vero e anche dio quel taglio mandorlato dell'unghia che dà piuttosto il senso della signorinità. Senti allora guardati in paccozzo tipo espresso con Franco Bolli e timbrivaris spedisco a Cortina dal Pierone. E appunto a me è suo tifo. Un po'. E abbiamo fatto la sorpresa. La sorpresa. La sorpresa. La sorpresa. La sorpresa. Cari miei steliti cuccioloni belli. Oh che belle bestie. Allora ci serve l'unghia. non capisco scusi approfondisca. Manicur. Parlo turco. Io non ne ho bisogno. Io me le mangio. Ce le mangiamo? E sono le nostre. E tu? E ci vediamo che pesce. E ci vediamo. Ah finito... Troppo divertissimo. Non trovi. Io trovo. Grazie a tutti.